Ciao, io ho un amico, si chiama Sketch Freddy, che ci fai qui? Frank, non ci si immergi in acqua senza il boccaglio Oh, ciao! Ciao! Ehi là! Siamo il team Umizumi e stiamo giocando a palla Prendi la bot! Risa! Amico Umi, hai mai giocato a palla? Incredibile, hanno risolto il puzzle! È uno squadro!